Salve a tutti e benvenuti su Olipets TV Ho fuori io tanto, prima o poi viene pure il tuo Su Olipets TV andiamo con un'altra chicca dedicata a quelle persone che lavorano senza mai chiedere di nulla In cambio, e si intitola Invisibili Vado, vorrei ringraziare tutte quelle persone che da sempre fanno il lavoro più duro Che vorrebbero sempre, e dico sempre, essere rispettate Costoro che puliscono, accudiscono, non vogliono essere santificate, glorificate Ma non solo adesso, sempre e solo rispettate Si esaltano le gesta di fantomatici sapientoni Senza sapere che lo zoccolo duro che ha tenuto in piedi il tutto è quasi sconosciuto Perché lavorano senza alzare mai i toni Io faccio un applauso a tutta questa gente Senza di loro sarebbe stata veramente un'ecatombe permanente Ringrazio ancora queste persone, le hanno fatto quello che dovevano e fanno da sempre Questo è quello che vi ha regalato Olipets TV Olforio tanto prima o poi viene pure tu Buon riccio, ma è stato fermato, ma quanto ma Cavallone giganti Per tutti quelli che non sentono O fanno finta di non sentire Con questo vi saluto e vi rimando alle prossime Come sempre Olipets TV Olforio tanto prima o poi viene pure tu Arrivederci Grazie